Se hai compiuto 18 anni e risiedi in Italia, puoi ricevere un rimborso per acquisti che farai in Italia pagando con un'app di pagamento e carte in bar, ristoranti Ah, ancora ci sono barre che come metodo di pagamento hanno i fiorini, pizzerie che hanno il baratto Vabbè, negozi, supermercati, eccetera Ovviamente beni di necessità, non puoi usarlo per l'acquisto online, non puoi prenotarti l'escort Il primo periodo sperimentale, e lo sottolineiamo Si chiama Extra Cashback Extra, e cash, e che se... Ok, non c'è lì Extra Cashback di Natale E inizia l'8 dicembre e termina il 31 dicembre Gli altri periodi vanno da gennaio a giugno del 2021, da giugno a dicembre del 2021 e da gennaio a giugno del 2022 Se ci arrivamo Dopo aver installato l'app io, cioè no, non che io ho installato l'app, cioè l'app si chiama io Cioè non è che si chiama come mai Chris, l'app si chiama proprio io Accendi con la tua identità digitale Speed E per creare lo Speed, devi inserire i dati della tua carta di identità, la tessera sanitaria e la mail Ora va a spiegaccelo a me e pare che per lui i Speed sono i fantasmi Oppure accedi con la tua carta di identità elettronica Perché è arrivata finalmente in Sicilia Io ho ancora quella di carta, che la puoi uscire con un massimo di tre volte dal portafoglio Alla quarta volta sembra sia passato a Mosè e l'abbia divisa in due Successivamente crei un pin Oppure tramite riconoscimento biometrico Cioè impronte digitale o accedi con la faccia Se hai la faccia di culo, ti riprendete il telefono e poi la metti più in basso Una volta finalmente entrato, ti daranno subito una laurea in sistemi digitali E la CIA ti prenderà a lavorare Accedi alla sezione portafoglio Sentirai un eco picchi piccio e un cinese E attivi il cashback Gergamente significa soldi che ti ritornano indietro Il contrario del vostro amico a cui avete dato dei soldi E lui ogni giorno ti risponde Non ti preoccupare che domani te li do Quando glieli hai prestati c'era la lira però Inserisci l'Iban appunto per avere il rimborso E se non avete un conto bancario Potete anche concludere la visione di questo video Ok ora andiamo alla parte pratica Allora voi prendete questo telefonino Andate a supermercato Dice io ho fatto la spesa Voglio pagare E pagate Si vede appunto questa transazione in questa applicazione Vi verrà rimborsato il 10% Con un massimo però di 150 euro Nel periodo natalizio dovete fare però un minimo appunto di 10 transazioni Addirittura dal 1 gennaio 2021 Dove aver raggiunto la soglia minima di transazioni Cioè di 50 Quindi avete acquistato per 50 volte Con un rimborso sempre massimo di 150 euro Puoi partecipare al concorso del super cashback Non sto scherzando Che se rientri nei primi 100 millesimi Ti rimborsteranno fino a 1500 euro Puoi vedere giorno per giorno la classifica E per rimanere nei primi 100 millesimi Giustamente devi spendere soldi Finirà tipo Amore ho comprato un cavallo Cosa ce ne facciamo? Devo rimanere nella classifica nei primi 1500 euro E aumentandone spesi 10.000 Se non avete capito un cazzo Potete consultare il sito ufficiale Ma io lì non ci ho capito due cazzi Vabbè Ah Premetto che nessuno mi sta pagando per fare questo video Lo sto creando appunto per farvelo capire meglio Per chi ne fosse interessato Quindi ho cominciato a dire un cacatare Ciao Ciao Ciao